Live amici amici di Ticino Notizie, diretta e improvvisata, però diretta per sua maestà lo champagne. Siamo ad Arluno, ciao Antonio, Antonio Povistà, l'appetit boîte, un luogo dove semplicemente si sta bene e quindi la gente torna. Serata champagne, Fabio, ciao Fabio, lui è la persona che lo illustrerà a breve. Allora, siamo qua perché sapete da Ticino Notizie che periodicamente questo locale d'Arluno, corso 26 aprile, numero civico, ma ricorda, 127, nel cuore di Arluno qua c'è la chiesa, poco distante il comune. Antonio fa queste serate, serate bellissime di cibo e vino, perché sono due piaceri che si uniscono e questa sera c'è champagne. Antonio, come nascono queste serate? Grazie al cielo ci siamo lasciati alle spalle, gli anni bui, adesso la gente esce, sta bene, vuole uscire. Qua è sempre pieno. Come è nata l'idea? Allora, l'idea è nata semplicemente quando mia figlia Beatrice ha incominciato facendo il corso, ho conosciuto Fabio. Fabio è un sommelier, poi ve lo dirà, è un appassionato di vino, direi la prima cosa Fabio. Più appassionato di vino e poi anche sommelier. C'è balenata questa idea qua di fare delle serate ad un prezzo contenuto per far conoscere il vino. Fondamentalmente è quello che dovrebbe essere un servizio che deve fare un sommelier. Vuol dire, per veganza, lui non lo dice, lo dico io, serate, questa sera 29, ma serate anche a 25 euro, dove si abbina a ottimi piatti, non uno, non due, anche tre, quattro ottimi vini. Antonio ha fatto una serata sul Barbacaro di Lino Maga, che è un vino leggendario per noi lombardi. Questa cosa è bella perché è aperta a tutti, tutti possono venire. Facciamo in modo che tutti possano cercare, facciamo in modo di far partecipare più gente possibile ad un prezzo tutto sommato. In cucina, diciamolo, c'è una ragazza giovane emergente, c'è una Beatrice che è? È mia figlia e adesso me li è anche lei, anzi sono lì prima di me. La ragazza ha neanche vent'anni, Beatrice ha vent'anni, a vent'anni Beatrice è in cucina, quindi chef e sommelier. Mamma mia, sei orgoglioso della tua bimba? Assolutamente sì. Poi c'è anche la sua mamma, tua moglie, Simona, che completa la squadra. Simona non è sommelier, però è una buona bevitrice. Quindi hanno studiato il papà e la figlia, avete studiato entrambi. Anche se in realtà Simona ha fatto anche lei un piccolo corso di degustazione. E' assomiglia d'onore, un po' assomiglia al marito. Diciamo che poi, grazie a Fabio e a Salvatore, che è un altro sommelier, che era il direttore di corso di Beatrice, praticamente il mio corso e quello di Salvatore, tutti i ripassi li abbiamo fatti qua. Quindi lei si è beccata a tre livelli. Cioè il ripasso di corso vuol dire che avete bevuto, Fabio? Sì, è una cosa che è studiato. Il bello di assomiglie quando ripassa è che continua a bere di nuovo. Fabio, parlaci, presentati ai nostri lettori e videolettori. Chi sei e perché l'amore per il vino? Ma niente, la mia passione è nata soprattutto come una passione, come tante altre cose che hanno caratterizzato la mia vita almeno finora e spero che sia così anche per il futuro. Il vino è sempre stato un po' la mia passione, il mio diretto e durante gli anni mi sono sempre detto prima o poi farò un corso sommelier perché mi piace, nel senso che perché è una cosa che mi attira. Fino a quando nel 2017, a un certo punto forzando i tempi lavorativi, i tempi familiari e tutto quanto... Ma anche un'attività economica tua? Un'attività economica mia, sono imprenditore e tutto quanto, quindi a un certo punto abbiamo detto vabbè facciamolo perché se non lo facciamo adesso non lo facciamo più. Beh, hai 30 anni quindi va bene. No, magari avessi 30 anni, 30 anni, molto molto tempo fa, però a quel punto... Sei sei anni fa, neanche così tanto tempo fa. Sì, no, neanche tanto tempo fa, ma come spesso mi succede, poi io parto ovviamente in quarta perché la passione quando arde spinge veramente forte, quindi ho conseguito il titolo di sommelier in praticamente in un anno e mezzo, quindi ho fatto i tre livelli e poi quando è stato il momento che ho chiuso il percorso di sommelier, ho di fatto continuato facendo anche un'istruzione diciamo così di tipo superiore avanzata, quindi diventando poi anche direttore di corso e quindi poi dove ho conosciuto... Tu sei un sommelier della FISA, spieghiamo cos'è la FISA. Diciamo che in Italia ci sono, senza fare graduatorie, senza fare classifiche, ci sono due, tre associazioni importanti che gestiscono il mondo del vino e soprattutto la sommelleria. Due soprattutto, la sommelleria importante che sono AIS e che sono FISA e che hanno, diciamo così, la maggioranza assoluta dei soci e dei sommelier presenti in Italia e una terza, probabilmente anche la più antica, probabilmente, di degustatori di vino che è l'Onav, poi dopo di che ci sono tante altre associazioni, tante altre associazioni che sono nate nel corso degli anni. Il sommelier terzo livello come te lo può fare, spieghiamolo, professionalmente? Assolutamente sì, io non lo faccio professionalmente ma un sommelier che acquisisce il titolo, tra virgolette, l'attestato di sommelier, può lavorare in un ristorante, può lavorare in un qualsiasi ristorante, ovvio che l'attestato è come la patente per chi guida la macchina e quindi bisogna esercitarsi, bisogna continuare a studiare, studiare e bere. Dopo di che sono diventato direttore di corso, poi il relatore percorsi FISA, quindi sono anche uno dei tanti che ovviamente porta i corsisti, i sommelier a essere poi i sommelier e poi dopo di che ho continuato per altre strade e continuerò per altre strade a diventare... L'idea di fare le serate qui Fabio, tu sei stato uno dei, il regista assieme a Simona, Antonio e Beatrice, come è nata? No, sono stato lui il promotore. Ah, dicelo, come è nata? Non è vero, come spesso mi succede, ripeto, io faccio le cose per passione e mi è piaciuto molto la figura di Antonio, di Simona e di Beatrice che avevo conosciuto, soprattutto Beatrice, lo dicevi tu prima, avere nei corsi una ragazza di 20 anni che arriva tardi alla sera ho il corso, perché durante tutto il giorno lavora, Mattia ha 20 anni e non esce da una cucina per aiutare nell'attività professionale, il padre e la madre è veramente una cosa... Dicono che i ragazzi sono svogliati, non è vero, ci sono le eccezioni. Quindi arrivare stanca la sera e fare un ulteriore corso, rubare del tè, è stato veramente un incontro e questa cosa poi mi ha portato a conoscere successivamente Antonio, io ero il suo direttore di corso e lui aveva smesso per tanti motivi, uno anche il Covid, il corso di aver smesso, il corso di sommelier, ha ricominciato con me con un terzo livello nella Fisar e a quel punto ci siamo trovati secondo me, senza fare grandi ricerche. Mettiamoci qua, dei vini, dei piatti. Ma sì, lo diceva Antonio prima, la mia idea è sempre stata quella di portare... Allora, entrando nel mondo del vino ti accorgi come il vino è tanto, c'è un mondo veramente da scoprire. C'è un mondo, nel senso che l'intero mondo, poi noi italiani siamo bravi, ricordiamolo. È una cosa incredibile, noi siamo tra i primi e i primi semifrancesi a livello mondiale. Il problema è che questo vino, il vino, soprattutto il vino di qualità, il vino di una certa eccellenza presente, difficilmente, anche per motivi di prezzo, non è appetibile. Sfatiamo un mito, bisogna solo spendere tanto per bere bene? Allora, assolutamente no. Ecco, diciamolo. Qua l'Appetit Watt, per esempio, si bevono grandi vini a prezzi ottimi. Assolutamente no, ma perché la scelta è stata quella, quella di cercare un modo per offrire la qualità e l'eccellenza insieme a un buon cibo e quindi anche un abbinamento al cibo a, possiamo usare il termine la gente della strada, quello che magari di vino non è aperto a tutti, però cercando di fare in modo il più possibile di tagliare quei costi inutili, andare a cercare magari subito dal produttore, farsi fare lo sconto, quindi abbassare incredibilmente il prezzo, scendere, scendere proprio quella bottiglia giusta, quel mito, come dicevi tu per esempio di Babacaro, Babacaro, Nicola Gatta, e come sono andate, come stanno andando Antonio? Le serate stanno andando molto bene, siamo partiti dalla prima serata nebbiolando 20 persone, che non sono poche, che non sono poche, abbiamo fatto Nicola Gatta, hai fatto bis, 65 persone, doppia serata, 65 persone sono tante, questa serata, la serata delle grandi maison, allora io non so in Italia, in questa sera, tanto ci saluta da Praga, sindaco di Magento, Luca del Gobo, che ha un difetto, un tifoso della Fiorentina, e a vedere Fiorentina West Ham ci saluta, è collegato, forza Italia e forza Fiorentina, cosa volevo dire? Sì, e torniamo, quindi l'accessibilità veramente a tutti è qualcosa di straordinario. Prossimamente a luglio faremo la serata sui vini sudafricani, che sono un'eccellenza, uno pesa Sudafrica invece, e pensate che avremo, cercheremo di mettere un passito, che è il passito che è scelto da Napoleone e che gli è stato servito durante il suo soggiorno a Sant'Elena fino alla sua morte. Sappiate che in Italia stasera a 29 euro con tre champagne, mi ricordo bene, qui verranno offerti i piatti e tre champagne, non c'è nessuno, cioè uno va bere un calice di champagne a Milano e ne paga 14-15 euro al calice, senza mangiare, qui stasera si mangia, si sorride e si sta bene, perché è molto divertente, però la cosa funziona, poi nasce una passione. Dele Cavallotti, grande viene in Sudafrica, è anche un collega, la Cavallotti è un locale, grazie Lele, anzi lo aspettiamo, c'è uno scambio, aspettiamo Lele qua, viene in Sudafrica, grandi vini, ma parliamo di champagne, ma tu sei, beh, chi ama il vino, è difficile donarmi lo champagne, tu sei un grande amante di champagne? Io sono un grande amante di champagne, sono appena rientrato per la terza volta consecutiva dello champagne e con amici, stiamo già parlando di andare una quarta volta, andate col furgoncino e andiamo col furgoncino e siamo, lo diciamo che si comprano champagne a 15-20 euro meraviglioso. Allora, 15 magari no, però a 25 euro si comprano veramente là, nelle cantine, direttamente dai produttori, dai piccoli produttori, dai piccoli vini ronna, si comprano veramente delle piccole eccellenze. Stasera parla dei vini che servirai anche tu che poi vorresti. Stasera la scelta era quella di sfatare il mito delle grandi maison, quindi prossimamente faremo la serata champagne dei piccoli vini ronna. Questa sera volevamo... RM, recultà manipulante. Sì, sì, bravo. Questa sera volevamo fare... Stasera abbiamo grandi nomi. Volevamo fare la serata delle grandi maison, dei grandi nomi, quindi avremo un grande nome della Val della Manna, avremo Beria Joé, che ovviamente è assolutamente una leggenda. E poi un'altra leggenda. E soprattutto la leggenda della leggenda, probabilmente una delle maison più antiche, 1740, è Moët Chandon, che fa tante bottiglie, mediamente buone. Insomma, prima è stato da loro a fare una degustazione in visita privata, la loro pubblicità, al di là dei grandi nomi che fanno pubblicità come Robert, come Pellerer, ma il loro Imperial, Moët Imperial, viene degustato una volta, una bottiglia ogni secondo durante un anno. Quindi se fate il punto... Sono passati 12 minuti, centinaia di Moët Chandon, già sta pagina. Parliamo di 31 milioni e 500 mila bottiglie l'anno. E fare 31 milioni di bottiglie di champagne, devi essere bravo. Assolutamente, assolutamente non è facile. Antonio, e cosa bini? Poi chi c'è lo saprà, stimoliamo l'acquolina di chi non c'è e verrà. Allora, partiamo da qualche antipasto, abbiamo dei salumi tipici italiani. Antonio e Simona servono la pasta di questo signore che viene servita da Massimiliano Laimo Trastele Michelin. Loro servono riso, pasta, materie prime straordinarie. Ricordatelo, ecco perché la gente viene e torna. Quindi i crostini sono anche lì, pensate come una chicca. Ci sono, sì, delle tigelle, del gnocco fritto in abbinamento con alcuni salumi particolari, che sono uno è un salame di felino, poi abbiamo la mortadella IGP Presidio Slow Food di Bonfatti, lo spec dell'Alto Adige affumicato a freddo con legno di faggio. Tutti salumi di ricerca. Sì, 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 a me piace, io arrivo da parte di mio papà, arrivo da una famiglia. Arrivi da questo lavoro che è importante. E quindi, cioè, per me la ricerca della materia prima è molto, molto importante. All'interno, lo sapete già, chi non lo sa venga, c'è, io lo chiamo il cavo delle delizie, c'è un mobile bianco con dentro degli oli di ricerca, delle caponate, delle cipolle borrettane. È straordinario, perché l'Italia è questa cosa qua, ragazzi, cose che ovviamente non trovate nella grande distribuzione. C'è altro, non si critica, è un altro, è un altro, è un altro offerto. Assolutamente. Poi, quindi, abbiamo Gengo, c'è anche, quindi, questo ti passo, poi? Poi abbiamo di, serviamo due insalate di riso, che sono pensate. Molto estive. Molto estive, sì, sono pensate, una con un gusto piuttosto orientale, quindi con frutte esotiche e salmone, un'altra con una tartare di verdure, siamo più sull'italiano e in questo caso qua stiamo usando il riso della riserva da Verane. Anche nel riso, scelta di qualità. Siamo in Lombardia, ragazzi, servire un riso non buono, ragazzi, facciamo un altro mestiere. Facciamo un altro mestiere. Assolutamente, assolutamente, e proprio per avere il contrasto tra due tipi di, due piatti simili, ma completamente diversi come gusto. E poi di secondi, del vitello tonnato. E qui è stato i suoi massimi. Io faccio ancora la salsa all'antica, quindi senza maionese, ma solo col tuorlo d'uovo sodo. Mamma mia, ci stai già facendo, vista l'ora c'è la gente che impazzisce. Parliamo sempre, vedi, dicevi 12, 14 minuti e non ci siamo accorti. Prossima serata quando, Antonio? La prossima serata dobbiamo... 6 o 7, allora... La prima decada di luglio? Nella prima decada di luglio, se non ricordo male, è un mercoledì. Allora, 16 domenica, compie 50 anni uno che conosco, quindi il 9, secondo me è il 6. 6 giovedì, 5, perché il 9 è domenica, il domenica sono 2, 9 e 16. È mercoledì, 5 luglio. Allora ragazzi, 5 luglio viaggio in Sudafrica, però rimane dall'uno. Assolutamente sì. E poi, Antonio, fino ad agosto c'è, poi si prende un po' di vacanza. E poi settembre, Fabio, si riprende. Dopo la metà di settembre, dopo l'inizio delle scuole... Ragazzi, cominciate a prenotare perché qua sarà sempre pieno. E poi ci sarà anche una sorpresa, ne stavamo parlando, poi te la comunicherò. Prima dell'estate? Prima dell'estate. Assolutamente prima dell'estate. Intanto stasera... Una guerra tutta italiana. Guerra? Sì. Per fortuna guerra di vino. È una bella guerra. E allora brindiamo alla buona vita, alla petite boîte, Fabio, Antonio, Simone Metrice. Grazie a tutti. Grazie. E viva champagne e buon champagne per tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.